Ragusa e Pozzallo con le sedi territoriali, l'unione sindacale italiana finanzieri punta sulla provincia di Ragusa, Francesco Raffette è stato eletto segretario di Ragusa e Antonio Cuscusa segretario di Pozzallo. L'USIF è un'associazione professionale a carattere sindacale costituita da appartenenti alla Guardia di Finanza. Sostanzialmente con l'istituzione delle sedi territoriali di Ragusa e di Pozzallo comincia la capellalizzazione sul territorio delle sezioni territoriali del nostro sindacato, l'unione sindacale italiana finanzieri che si è costituita a giugno di quest'anno dietro il preventivo parere del Ministero dell'Economia e delle finanze. Quindi con questa costituzione delle sedi territoriali noi saremo un punto di riferimento certo per tutti gli uomini in divisa delle fiamme gialle e quindi eccoci pronti a essere sul territorio per tutti. Grazie. Sì, intanto è stata, come ho detto nel mio intervento, una scelta epocale fatta dai nostri organi legislativi, quindi noi mettiamo il nostro impegno per cercare di migliorare un po' quella che è la qualità della vita delle forze dell'ordine. Quindi vedremo di impegnarci facendo squadra, facendo anche una logica giusta e sana collaborazione con le altre forze di polizia perché comunque con il giusto confronto si riesce ad ottenere dei miglioramenti per quelle che sono anche le condizioni di servizio e le condizioni di lavoro. Per fornire un servizio al cittadino in maniera, diciamo, un servizio migliore anche al cittadino perché col benessere sicuramente le forze dell'ordine lavorano meglio. Dobbiamo iniziare subito a lavorare, dobbiamo, come dire, raccogliere un po' gli umori di chi è nel corpo e che ha necessità di risolvere tanti problemi. Noi siamo scesi in campo per questo. Intavoleremo un discorso, come dicevo prima, leale e franco con chi ha possibilità di poterli aiutare. Questo è quello che intenderemo fare.